In promozione c'era attesa per il big match di giornata tra Eclanese e Virtus Avellino. A causa però dell'impraticabilità del terreno di gioco, la gara è stata rinviata a data da destinarsi. Ne ha approfittato lo Sporting Accadia che, vincendo in trasferta contro il Grotta per 3-2, si porta a punteggio pieno, così come il Baiano vittorioso per 1-0 sul campo del comprensorio miscano grazie ad un gol del bomber d'avanzo. Prima vittoria stagionale invece per Serino, FC Avellino, San Martino ed Artemisium. La graduatoria per il momento vede in testa 6 punti Accadia e Baiano, a seguire con 4 punti Serino ed Artemisium, con 3 Eclanese, Miscano, Paolisi ed FC Avellino e San Martino, con 1 punto Montella ed Ariano e con 0 Virtus Avellino, Grotta, Siconolfi e Bisaccese. Tra le partite più entusiasmanti del weekend sicuramente quelle andate in scena al Romano di Grotta Minarda e dal Pignatelli di San Martino Valle Caudina. Nel primo impianto gli uomini di Bruno riuscivano addirittura a passare in vantaggio dopo appena 4 minuti con il gol di Pio Di Donato. L'Accadia di Macera però raggiungeva il pareggio con Sorrentino e poi passava in vantaggio con Grillo. A mettere al sicuro il risultato ci pensava nella ripresa il solito russo. A nulla serviva il gol di De Mari che fissava il punteggio sul 2-3 finale. A San Martino il risultato era lo stesso, questa volta però in favore dei patroni di casa. Mattatore del match Salvatore Fruggiero che subito sbloccava il risultato. L'Ariano però in 30 minuti riusciva a ribaltare il risultato con i gol di Capodilupo e Del Vecchio. Il cuore della formazione Caudina però veniva fuori nella ripresa con due gol di Salvatore Fruggiero che non solo regalavano all'attaccante San Martinese la gioia della tripletta personale ma consentivano alla formazione Caudina di conquistare i primi tre punti stagionali.